In questo esatto momento siamo in live streaming per una maratona su Twitch TV Trovate il link qua sotto in descrizione Mi raccomando non mancate perché ne vedrete delle belle Succederanno tantissime cose, ci sono tantissimi ospiti È una maratona di beneficenza in collaborazione con la Fondazione De Marchi Quindi mi raccomando siateci e devolvete dei soldi perché andranno tutti quanti in beneficenza Guardatevi il video, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Usate il codice creatore Stepney E noi ci vediamo in un prossimo video però buona visione Bene ragazzi, questo è qui e bentornati che sono visto il video della serie di Fortnite Sto sventolando il banner con la vittoria reale ma sarà molto difficile Leggete un po' qua sotto di me Solo versus squad È un bel casino raga Però ci impegneremo al massimo e proveremo a fare il panico Atterrare subito a Parco Pacifico potrebbe essere pericoloso Però Neo Tilted credo di essere in grado di saperla gestire Proviamoci Atterraggio non male Ci agganceremo al tubo Anche se non è proprio quello che volevo Ho già visto un fucile a pompa quindi lo puntiamo istantaneamente raga E qua sotto Molto bene Qui dovrebbe essere sopra di me in teoria Ciao amico Cosa volevi fare? Avevo avuto un solo scudino Che peccato Che tristezza Cinque ne ha What the hell? Vediamo lì ha presi cinque scudini sto qua Andiamo a prendere la macchinetta viola Vedo un fucile a cecchino Un launchpad Che altro? Un cecchino normale Veloce Come? No Ho finito i mazzi Non ci credo Mi stavo chiudendo dentro la casa Ho finito i materiali Questo è veramente all'aki raga Ma proprio tanto Cosa è successo a pressure plant? Ma io dico Sarà mai possibile Che una volta Che mi piace un posto Questi prendono E ci fanno le peggio modifiche In assoluto Guardate È cambiato tutto Di nuovo No Maledizione A me piaceva Come era prima Perché l'hanno dovuto far così? Dannazione Guarda uno Che bello la R Che grande arma E prendilo E dai Crepato Pressure plant Stacking Stepney Ok Lucky Easy Come faccio? Oh mia dio Ho ucciso un team intero Ma non basta Per quale motivo? Perché questi hanno già tutto Non ci ho avuto tempo neanche di curarmi Hanno cambiato tutto Dovevamo solo ingranare Tranquilli ragazzi Che ora La partita è nostra Ne ho pinnacoli ancora Io Sto arrivando E sto qui amico Thank you Support e pugilito Pompità Si sparano dietro di me Adesso vado a fare un po' di panico Ciao amico Non ci sei più C'è qualcuno dentro questo palazzo Che culo eh Eccolo il medichitozzo Guarda qua anche lo scudo a 50 Che culo Vai così Ti spari uno di questi Ricopri la pozione a 50 Spari anche la pozza a 50 E si riparte col push Ah Vuole rianimare il suo amico Ciao Ciao E siamo a 3 kill Super tattiche Super operativi Vai così Sparati sta pozione a 50 Vai al massimo Che anche il massimo A volte non è abbastanza Il suo amico è andato a prendere un lama Guardate i miei materiali Lol Vi ho detto che l'inizio Era solo il riscaldamento Come vedete Adesso siamo già messi Molto meglio Questa statua non si può rompere Ma davvero C'è qualcuno che è arrivato qua vicino Credo Arrivano Aiuto Uno a terra Due a terra Ma che ne manca solo uno Ricarica sta pistoletta Le abbiamo fatte fuori tutti Uno è andato Oh my god Eliminati entrambi Vai così 6 kill Easy peasy Via 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 Troppo pericoloso Questo Scendi Vai di sfera Jackpot Siamo ancora vivi ragazzi 6 uccisioni Si rulla See me rolling They hate him Crispy running dirty Crispy running dirty Il mio medic It's su Pangala Senti nel dubbio Anche se è fuori dalla zona sicura Io un giro qua sotto lo farei Rigenera la vita As soon as possible Sta arrivando a manetta È infuriatissima la tempesta stavolta eh Via 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 Mancano 7 di vita ma pazienza È la prima partita decente del video L'obiettivo è non combattere fino a che non sia all'altezza Una volta presa l'altezza è fatta Teoricamente i più fogati Atterranno all'inizio Quindi dovremmo già averli uccisi No no non esiste Via 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 Pericolosissimo Solo versus squad Ho bisogno che si ingaggino fra di loro Se no come faccio? Oh cavolo Ma non è possibile La mia trappola non ha colpito nessuno Siamo atterrati senza volerlo Al The Block Perché porca di quella trottola Era andato in bagno E quindi Dobbiamo prendere appicconate la gente Questo The Block è il paradiso raga C'è veramente di tutto e di più Revolver viola Potrebbe essere interessante Questa dovrebbe essere quella nuova A differenza dell'altra Non la uso da un sacco di tempo Quindi Let's go Apistagas Lancia missili addirittura C'è il pompa verde della nonna E noi prendiamo il pompa della nonna Ovviamente Road to safe zone Laggiù stanno combattendo Sono tutti fuori dalla tempest Cioè dalla zona sicura È un casino Quanto range ha la revolver Secondo voi È abbastanza direi 36 danni da qua giù in fondo Let's go 36 danni a quello laggiù in fondo Gliel'ho fatti Sta per morire Venite venite Uno l'ho preso L'altro è arrabbiatissimo Non è vero No ragazzi Non c'è tregua Non è possibile Che pizza Guarda questo non sa neanche Aprire un muro Picco polare È un po' troppo pericoloso Per i miei gusti Io però Voglio assolutamente Il pompa della nonna Di nuovo Che cosa ci fa Il fucile della nonna là Oh mio dio C'è un'arma viola Là sopra Non è una pozione L'hanno già presa Eccoci Sono atterrato malissimo Mi sono anche incastrato Ovviamente Bella boccia Il mitraglione della morte Cassa Si vola Sei serio Va bene Va bene Grande Complimenti Pressure plant I'm coming for you Oh mio dio Non è vero Devo scendere subito Veloce Ho visto Raga ho visto un lama Ho visto un lama Non sono pazzo Giuro che c'era un lama Lo giuro No C'è più Ah infatti Non sono pazzo Ve l'ho detto Che c'era un lama 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 Sì ma in tutto questo Ancora il fucile a pompa vecchio Non l'ho trovato Addirittura Va bene Forse non hai capito Con che è a che fare Probabilmente Aia Che fatica Loro là sotto È ancora vivo Incredibile Tutto ciò Eh What Chiudi tutto Siamo ancora vivi Raghi È un miracolo Easy Pompa Il pompa Aiuto Oh my god Aiuto Chi sono No Ragazzi Avevo fatto il miracolo Della vita Io non so se mi rendete conto Non potevo piazzare il falò Perché non avevo più materiale Avevo anche il launch Non ci credo Proviamo Borgo Bislacco Raga Non avrò ancora Tante occasioni Ho registrato Poi di due ore Per sto fallimento Totale L'unica cosa Che mi dà gioia È vedere il pompa Della nonna Quindi ora vado subito A registrare un gameplay Normale Dove le persone Sono una alla volta E basta Arma Mitraglione della morte Let's go Allora Per fortuna Non è entrato qua dentro Altrimenti avrebbe trovato Il pompa anche lui Ciao amico Due pozioni a 50 Ci piace Cento vita Cento scudo Il mitraglione della morte Non ci fermerà NESSUNO Ucciso Bella lì Ciao amico Un altro A qualche parte Ucciso anche lui Quattro kill E siamo solo arrivati Dai step Che te la porti a casa Preso 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 un headshot A caso Cos Quanto danno Un peso Da caduta Cadendo Da davanti Allì Lì sotto No vabbè Assurdo Questo stava con 28 Di vita Incredibile L'ultima Partita Di oggi Nelle solo Versus squad Che dio Ce la mandi buona E senza vento Io me ne vado a pressure plant Apertura perfetta Del nostro delta plano Andiamo Ci fermiamo qua sopra Manco io so il motivo Veloce Compa subito Si Uno preso Non ridi più eh Bella storia Due potion shot Ah no aspetta 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 Boom 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 Non è che stavolta ci divertiamo Chi è che mi spara Boom Eliminato Preso Oddio Si 3 kill Easy peasy Mi state aspettando Sono più forte Perché ho detto a me stesso Che è l'ultima partita Quindi sono auto triggerato Funziona così Vedete che hanno chiuso tutto Ma cos'è sta storia Io l'ho detto Che è l'ultima partita Quindi dobbiamo assolutamente vincere Senza se e senza ma In traglietta silenziata Che bello vederti amica mia 100 vita 98 scudo E si riparte Mi sa che mi conviene Andare direttamente qua Cos'è quel genzo raga What Cos'è quel coso C'è un pappagallo What Andiamo in zona sicura va C'è altra gente che mi ronza intorno Ma la evitiamo Mancano ancora 45 persone È l'ultima partita Quindi non commettiamo cagate Please I driftboard sono diventate Le tavole da surf Sta cosa è molto divertente Eila Ma laggiù c'è gente Cosa Via 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 Non scherziamo Stanno arrivando altri Sono tutti qua vicini Oh mio dio No che sfiga Aiuto Easy Immobile Due team si stanno fightando fra di loro È finita Abbiamo perso Non ci credo Muoio così Non è vero Via Via Aiuto Sapete qual è la definizione di vivi per miracolo Questa qua Oh mio dio Siamo vivi ancora Sul serio Giuro che a me non sembra vero È l'ultima partita Sono ancora vivo Per un mezzo miracolo Giuro che non so come faccio ad essere vivo Giuro quello che volete Posso curarmi qua Per poco Ma posso curarmi Non male che si stanno ammazzando fra di loro Ragazzi sto andando zitto Zitto in zona sicura Veloce Quello che cos'è Non mi serve Ma delle band per sbaglio Che sono rimaste qui in mezzo al grano Oddio Sì Ci sono Se sto qua posso fermarmi e aspettare Sto calmo e tranquillo fino alla fine Tanto loro saranno impegnati adesso Non mi posso assolutamente muovere C'è qualcuno qua raga Devo stare attento eh Una cassa Oh mio dio Oh mio dio scudini Zitto step Quanto si muove ancora questa tempesta È la seconda guerra mondiale Anzi la terza Aiuto Aiuto No 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 La sua struttura Non ci credo Quanta vita è rimasto 47 col falò Stava morendo Non ci credo Ce la potevo fare Dari amici Basta per oggi Con le solo versus squad È stato il tempo perso Allenamento Quanto volete Ma non cambia Niente Felicissimo Che ci siano Una fissile a pompa Registrerò assolutamente un gameplay Spolliciate Commentate Iscrivete Attivate la campanellina Noi ci vediamo nei prossimi giorni Un prossimo video Venite in live Sul canale dei twitch Dai mates Cosa sempre tutto Ok Fai lo spavaldo Giri il banner Victory Royale Sei fatto uccidere in questo modo Jeff step Sei veramente ridicolo Ciao a tutti Ciao a tutti 차 unionco E' Pietro